ciao a tutti rieccomi con un nuovo video oggi andiamo a fare una mattonella grani a a forma di girasole allora per fare questa mattonella abbiamo bisogno di lana resti di lana oppure no donga del colore con il colore giallo sull'arancio il marrone il bianco è un color mattone oppure colore ruggine diciamo comunque in colori che più preferite per fare un girasole io avevo questi piccoli resti e ne approfittate per farne anche se del bianco ho preso un comitolo che era ancora un tiro comunque per fare questa questa mattonella io ho utilizzato un uncinetto numero 4 questa mattonella io ve la faccio vedere di lana lavorato con la lana ma voi potete per i giorni che adesso arrivano che fa caldo e il tema dei fiori va bene fatela vi consiglio di farla con cotone ma potete farla benissimamente anche con la lana ma è meglio lavorare con del cotone per l'estate e niente adesso vi faccio vedere come si inizia allora scusate le ho inquadrato un po male però allora andiamo a mettere su con l'uncinetto numero 44 catenelle e andiamo a chiuderle nella prima catenella quindi facciamo una maglia bassissima nella prima catenella adesso andiamo a fare due maglie 2 catenelle e rientriamo a fare quindi nel cerchio al centro andiamo a lavorare in tutto 16 maglie alte cioè la prima le 3 catenelle sostituiscono una maglia alta quindi in tutto avremo 16 maglie alte ecco qua quindi facciamo lavoriamo le nostre maglie alte ecco nel centro del del cerchio ma volendo potete fare anche un cerchio magico io ho fatto 4 catenelle insomma va benissimo anche così volendo potete fare anche un cerchio magico e lavorate dentro 16 maglie alte è un consiglio che vi do come fate come volete ok adesso siamo arrivati alla fine del giro andiamo a chiudere con una maglia bassissima sulla catenella la terza catenella sopra sopra e chiudiamo con una maglia bassissima il primo giro l'abbiamo terminato tagliamo il filo e adesso andiamo a prendere il secondo colore allora con l'uncinetto entriamo io taglio il filo giustamente per poter iniziare il giro ovunque in qualsiasi maglia quindi io ho iniziato subito dopo e vado a fare due catenelle anzi trek 3 catenelle e nella stessa catenella adesso vado a fare un punto pop corn cioè andiamo a prendere tre maglie alte e le chiudiamo andiamo a lavorare tre maglie alte ma non le chiudiamo ma le chiudiamo insieme con una maglia bassa quindi vedete prima maglia seconda ma non la chiudiamo e terza ok prendiamo il filo adesso chiudiamo il punto pop corn con una catenella vedete vi spiego di nuovo prendiamo il filo facciamo la maglia alta senza chiuderla ecco qua quindi vedete abbiamo tutti i fili sull'uncinetto adesso andiamo a chiuderli insieme con una catenella ok non è difficile di nuovo allora andiamo a fare nel giro completo otterremo 16 punti pop corn 16 motivi pop corn perché andiamo a fare lo stesso numero di maglie che abbiamo fatto all'inizio 15 15 no 16 scusate 16 maglie e 16 punti in tutto quindi riprendiamo le nostre maglie e mettiamo su senza chiuderle e la terza la chiudiamo insieme ricominciamo prima maglia seconda terza e adesso chiudiamo tutti insieme e facciamo una catenella ok quindi adesso io termino e ci vediamo quando sono arrivata alla fine eccomi qua quindi finito tutto il giro e credete io ho fatto a 16 maglie 16 punti pop corn adesso chiudo nella prima catenella del punto dell'inizio del punto e tiro una maglia taglio il filo e adesso vado a prendere il terzo colore ossia il giallo anche qui cominciate dove volete quindi perché uguale la stessa cosa ovunque dove andate e la stessa cosa quindi mettiamo su una due tre catenelle e adesso andiamo a fare ecco questa conta per una maglia andiamo a fare una maglia alta la lavoriamo ma non la chiudiamo un'altra maglia alta vedete la lavoriamo la prima volta ma non la chiudiamo quindi vedete abbiamo quattro maglie in tutto e adesso chiudiamo e tiriamo una catenella ricominciamo mettiamo sulla prima maglia la lavoriamo a metà diciamo ecco adesso prendiamo di nuovo l'altra maglia ecco qua adesso abbiamo quattro scusate abbiamo ecco qua chiudiamo abbiamo quattro quindi da quattro maglie abbiamo chiuse di nuovo prima maglia seconda e terza vedete alla fine abbiamo 44 maglie sopra e chiudiamo tutti insieme al contrario del punto pop con che non lavoravamo per niente qui lavoriamo il punto a metà ecco vedete prendiamo il filo entriamo e chiudiamo e non andiamo più oltre ok ecco qua quando abbiamo quattro punti sull'uncinetto chiudiamo con un punto catenella con una maglia bassa scusate e ricomincio così fino alla fine del giro cioè 16 punti ok ecco qua chiudiamo e tiriamo una catenella scusate a volte i termini non escono bene perché io come al solito con il francese insomma mi imbroglio un po tra le maglie francesi e le maglie italiane però scusate però col video voi vedete ok adesso abbiamo fatto tutto il giro quindi abbiamo fatto 16 punti ecco ecco qua abbiamo fatto tutto il giro e adesso andiamo a chiudere il nostro giro scusate ok andiamo sulla prima maglia la prima maglia catenella e chiudiamo e di nuovo tiriamo il filo e lo tagliamo per far sì che possiamo ricominciare il prossimo giro ovunque ecco qua finito il terzo giro adesso andiamo a fare il bianco allora facendo il bianco adesso andiamo a lavorare i quattro angoli per fare la mattonella ok quindi prendono la lana bianca e inizio dove voglio io inizio direttamente con l'angolo quindi l'angolo si fa così si lavora con una con le doppie maglie alte allora io metto il filo bianco e vado a lavorare scusate ecco vado a lavorare una i figli taglieremo alla fine una due tre tre catenelle perché andremo a lavorare e il mai quindi la maglia alta doppia vedete io prendo metto su carico due fili invece di uno e lavoro a doppia maglietta ed è una due rientro tiro il filo una prima volta la seconda volta ed ecco qua ho ottenuto 3 maglie alte adesso 3 maglie doppie alte adesso ho fatto 3 catenelle e ricomincio sempre nello stesso spazio rilavoro di nuovo 3 maglie doppie alte alte doppie insomma come volete ecco la seconda e la terza scusate ho sbagliato preso solo caricato solo un filo due fili per fare la maglia alta doppia quindi esco una volta esco due volte è finito e questo è il primo angolo quindi andremo a fare quattro angoli e verranno divisi da tre gruppetti di tre maglie alte che allora questa volta non andiamo più a lavorare la maglia alta doppia ma andiamo a fare delle maglie alte normali quindi una due e tre ecco qua tre gruppetti nell'altro spazio andiamo a fare di nuovo 3 maglie alte insieme seconda e terza e adesso rifacciamo il secondo angolo quindi maglia alta doppia mettiamo su due fili ecco carichiamo due volte il filo lavoriamo una volta lavoriamo la seconda volta ma di nuovo la stessa cosa quindi otteniamo 3 maglie alte doppie separate da 3 catenelle e ancora 3 maglie alte doppie questa è la seconda e la terza ecco qua vedete adesso vi faccio vedere il primo angolino e il secondo angolino separati da 3 gruppetti di 3 maglie alte e andremo a fare così fino alla fine del giro perché avremo di nuovo tre gruppetti un angolo tre gruppetti un angolo tre gruppetti andiamo e andremo a chiudere eccoci qua finito il giro come vi dicevo prima ho fatto tutti i gruppetti e i quattro angoli e adesso andiamo a chiudere con una maglia bassissima bassissima sulla terza maglia alta maglia alta scusate sulla terza maglia catenella ok adesso che abbiamo fatto il giro non chiudiamo ma continuiamo facendo una maglia bassa su ogni maglia sottostante e nell'archetto andiamo a fare andremo a lavorare due maglie basse e se no è sempre una maglia bassa in ogni maglia sottostante vedete lavoriamo le nostre maglie alte e negli angolini andiamo a fare due maglie alte allora questo questa mattonella io ci ho messo una decina di minuti ci metto a farla però facendo il messo più tempo perché insomma ho messo più tempo per spiegare insomma però facendola normalmente e in dieci minuti massimo 15 la mattonella la finite ecco qua quindi facciamo il nostro giro dappertutto senza dimenticare di fare due maglie in ogni angolino ok arrivati ecco la fine adesso tiriamo la maglia e chiudiamo tagliamo il nostro filo sempre per lo stesso motivo ecco qua i quattro angolini e le separazioni molto bella mi piace molto questa mattonella e molto annuggia l'estate la primavera insomma colore adesso io faccio l'ultimo giro con un colore ruggine come ho detto prima potete farlo anche un altro colore potete farlo verde arancione come volete voi io avevo un bel ruggine e l'ho fatto allora adesso iniziamo a qualsiasi punto della mattonella come volete voi andiamo a mettere su sempre cominciando per tirare il filo facciamo una due catenelle e adesso andiamo lavorare in ogni maglia sottostante una mezza maglia alta ok ecco qua e continuiamo in ogni maglia sottostante mezza maglia alta ecco qua con queste mattonelle con queste mattonelle potete fare tante cose allora potete fare delle sciarpe potete fare dei cuscini potete fare dei centrini potete fare delle presine potete fare dei cuscini per mettere nel giardino veramente tante tante cose sotto bicchieri potete fare veramente tante cose potete veramente sbizzarrire allora eccomi qua siamo nell'angolino nell'angolino adesso andiamo a fare due maglie mezze alte nella maglia nella prima maglia sottostante ricordate che abbiamo due maglie catenelle scusate avevo catenelle scusate abbiamo due maglie basse nell'angolino sottostante e adesso andiamo a lavorare nella prima maglia bassa dell'angolino andiamo a fare due maglie mezze alte ok sono spiegata bene comunque adesso ve lo faccio rivedere penso che ve lo faccio vedere perché come immaginate questo video è stato registrato prima adesso lo sto solo sto solo mettendo la voce ecco non lo faccio vedere comunque fate un po indietro si ve lo faccio vedere non mi ricordo nemmeno come l'ho fatto il video perché quando faccio i video così non si può fare con la voce se no ecco vedete nella prima maglia sottostante dell'angolino ho fatto due maglie mezze alte nella seconda faccio solo uno e continuo così una maglia mezza alta a tutte le parti e due mezze maglie alte nell'angolino mi dicevo questi video non posso farli quando sta la televisione accesa quando ci sta mio marito c'è rumore quindi quando io li faccio ci sta il rumore e dopo insomma perché ci vuole tempo comunque per farli e poi insomma li carico e dopo metto la voce ok abbiamo finito il nostro giro il centrino è terminato è finito le termine ecco qua adesso andremo a mettere a tagliare tutti i fili e voilà questo è il risultato finale io lo trovo veramente veramente bello ed io rientrate i fili rimane solo uno che dopo andrò a rientrare dopo allora io lo trovo veramente molto molto bello è molto semplice da fare ed è veramente grazioso a me piace molto quindi come vi dicevo prima ecco io ne avevo fatto anche un altro con questo potete fare dei cuscini potete fare delle borse potete fare per la spiaggia per esempio dei centrini potete fare centrotavola potete fare quello che volete per le tavole del giardino per esempio ecco quindi mettete fate bene bene io una volta che finisco metto degli spilli sui quattro angoli e li metto su una spugna per esempio un cuscino così il quadrato esce bello esce bene allora ragazzi noi ci vediamo alla prossima e se vi è piaciuto mettete un pollice in su io vi mando un bacione grande grande alla prossima ciao bye bye ciao 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 ciao